Sarà una grande tre giorni per l'Abruzzo, forse Di Matteo l'evento più importante degli ultimi anni. Lei aveva lavorato da assessore per un anno e mezzo per portare il Giro d'Italia nella nostra regione e questa che era un'idea è diventata oggi realtà. Io sono felice che abbiamo coronato questo bellissimo sogno che è diventato realtà. In realtà per la prima volta in Abruzzo tre giorni di permanenza del Giro d'Italia sarà una grande iniziativa di promozione del nostro territorio che lega l'entroterra alla costa e che permetterà di far vedere l'Abruzzo in Eurovisione in tutto il mondo. Io sono felice di questo grazie a tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione e soprattutto all'impegno della regione Abruzzo a far sì che si concretizzasse questa iniziativa. Porterete il Giro d'Italia, la Corovana Rosa a Rigopiano di Farindola e ci sarà il ricordo delle 29 vittime della valanga, di questa tragedia che ha segnato la nostra regione. Quelle vittime non possono essere dimenticate, stanno veramente nel nostro cuore. Io comprendo le difficoltà, il disagio dei familiari che hanno subito questa grande perdita. È un Giro d'Italia che tocca tre province, che sta qui per oltre 250 km. È un momento importantissimo di rilancio di quelle zone che hanno necessità di far capire all'Italia e al mondo intero che l'Abruzzo è una regione stupenda, che è una regione che ha comunque subito il danno ma che ha reagito e che è pronta ad ospitare il turistico delle zone stupende. Bisogna ripartire, bisogna avere la forza di ripartire per guardare avanti senza dimenticare quello che è accaduto. Assolutamente, il nostro territorio è stato conosciuto principalmente per le tragedie mentre è stupendo dal punto di vista naturalistico, gastronomico, culturale. L'occasione della TAP del Giro d'Italia rappresenta un'occasione unica da non mancare quindi per promuovere al meglio il nostro Abruzzo e il nostro turismo. Sono certo che l'Abruzzo passerà per quello che è, quindi gente accogliente, territorio ospitale e con tutte poi le bellezze che ci sono. Il 14 maggio ci sarà poi questa cerimonia privata con i familiari delle vittime della Valanga proprio per ricordare questi 29 angeli come lei li ha definiti qualche minuto fa. Sì, lì un ringraziamento particolare va al direttore Mauro Vegni che insieme a Maurizio Formichetti hanno mostrato una inusitata sensibilità e con questo gesto di solidarietà dapprima nel far passare la TAP ma poi nel rendere il giusto onore a questi angeli che ci hanno lasciato lo scorso gennaio.